scopriamo insieme le anticipazioni e gli ospiti del nuovo doppio appuntamento con verissimo in onda sabato 25 e domenica 26 maggio 2024 alle 16 30 su canale 5 torna il doppio appuntamento con verissimo il talk show condotto da silvia toffanin su canale 5 sabato 25 e domenica 26 maggio 2024 con un doppio appuntamento appassionante la conduttrice intervisterà alcuni ospiti importanti pronti a mettersi a nudo tra risate momenti di nostalgia e commozione in studio ci saranno gigi d'agostino il supermodello david gendi poi spazio a elettra lamborghini che ha da poco festeggiato 30 anni e poi lo speciale dedicato ad amici dopo la vittoria di sara toscano verissimo anticipazioni e ospiti sabato 25 e domenica 26 maggio 2024 2024 nella puntata di verissimo in onda sabato 25 maggio 2024 su canale 5 prima intervista per la tv italiana per gigi d'agostino il capitano della musica dance rimasto lontano dalle scene per un lungo periodo a causa di un grave problema di salute e ora pronto a far ballare nuovamente il suo pubblico in esclusiva silvia toffanin intervista il supermodello britannico david gendi spazio poi a elettra lamborghini che ha da poco festeggiato 30 anni con un party esclusivo e divertente e ancora insieme in studio con la loro forza e il loro spirito positivo caroline smith e carolina marconi infine un aggiornamento sullo stato di salute di costantino vitaliano e la storia d'amore appena sbocciata grazie a uomini e donne tra daniele e gaia nella puntata di verissimo in onda domenica 26 maggio 2024 silvia toffanin presenta verissimo speciale amici dedicato al talent show di maria de filippi che si è concluso sabato scorso con ascolti record al centro dello speciale le storie dei sei finalisti con in primo piano a partire dalla gioia della vincitrice assoluta sara poi il talento straordinario di marisol vincitrice del premio di categoria ballo non mancheranno le emozioni anche per gli altri ragazzi arrivati in finale i cantanti petit olden emida e il ballerino dustin a commentare l'evoluzione e la crescita dei ragazzi i professori che li hanno accompagnati in questo bellissimo viaggio lorella cuccarini emanuel low rudy zerbi alessandra celentano anna pettinelli e raimondo todaro infine sarà in studio anche il giudice cristiano malgioglio